o ciao qui af news o meglio qui gianfranco goria da af news oggi mi faccio vivo per ricordarti di controllare sempre possibilmente più volte al giorno la barra laterale di af news.info ci arrivi come hai visto con www.af news.info e vieni portato nella zona del blog qui trovi le notizie del giorno e tutte le altre ovviamente c'è sempre tutto solo scordiamo un momento ti faccio notare che c'è una barra centrale quella in cui ci sono le notizie pubblicate da af news da me e dagli amici che gentilmente ogni tanto ne pubblicano come si vede adesso corre un momento fino in fondo giusto per farti vedere che c'è anche un fondo della pagina che magari non ti ricordi di andare a vedere però ci sono delle cose che possono essere interessanti molto molto interessanti o come si diventa autore di fumetti questo potrebbe interessare a molti a molti che volessero diventare autori di fumetti ma ci sono altre cose qui adesso non sto neanche a dirtele te le faccio solo vedere e ti faccio notare che c'è una barra laterale a destra questa qui dove in questo momento vedi paperino che contiene delle extra news è un flusso continuo in diretta di notizie che vado a inserire o su twitter o su facebook o anche su altri reti sociali che arrivano dal mondo del fumetto data tutto il mondo e anche dall'italia naturalmente qui di notizie ce ne sono una valanga e scorrono nel senso che la volta dopo che torni non vedi più in cima le stesse perché come tutte le notizie che stanno sulle reti sociali scorrono via come acqua come un ruscello che sulle porto via in questo caso non è il ruscello è la rete sono le necessità di questo tipo di strumenti e di notizie ce ne sono effettivamente parecchie quando si arriva al fondo qui dove sto scorrendo con il mouse in questo momento il fondo della prima sezione quella dell'extra news c'è scritto cerca altri tweet in questo momento sto utilizzando twitter come strumento tecnico per visualizzarle male puoi vedere su facebook eccetera c'è scritto carica altri tweet tu fai clic su carica altri tweet ed ecco che appaiono altre notizie quelle precedenti ancora come vedi ce n'è di tutti i generi western dalla leggenda o western reale chi lo sa beh insomma accendi tutto effettivamente scorri 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 non hai trovato ancora qualcosa che ti interessa fai di nuovo clic su carica altri tweet ed ecco che ne appaiono altri e qui c'è archimede che corre e via così allora dopo la colonna sempre una barra laterale che riguarda le extra news cioè tutte quelle news che non sono pubblicate direttamente su afnews.info ma altrove qui vengono rilanciate e c'è una differenza sostanziale le news che pubblica afnews queste della colonna centrale principale restano per sempre nell'archivio di afnews tu le puoi trovare quando vuoi ci sono notizie dal 95 in poi grosso modo insomma un po da qualche anno dopo ce ne sono molte di più e e queste restano per sempre per sempre finché finché c'è la rete finché c'è afnews in vita e considerando che sono già molti anni insomma spero che continuerà ancora per un bel po dipende da quanto vivo io ovviamente ma questo lo vedremo poi e intanto che non c'è fretta per l'estinzione e quindi quelle della della zona centrale della barra centrale che è sulla sinistra queste restano per sempre vengono archiviate sono ricercabili col motore di ricerca interno in qualunque momento quelle della colonna invece della barra laterale destra no perché sono collegamenti sulle reti sociali e queste per loro natura si estinguono rapidissimamente sì è vero che in teoria in realtà non in teoria in realtà restano per sempre anche quelle ma per trovarle devi usare altri strumenti e devi essere capace di farlo quindi qui bisogna che te le vai a cercare tutti i giorni che vai a dare una scorsa arrivare fino a quelle che avevi visto la volta prima e dire ok non mi sono perso niente altrimenti c'è il rischio di perdersene qualcuna è vero qualcuna la rilancio la ripropongo anche pubblicandola nella zona centrale cioè in quella permanente di af news però non farci conto perché magari la cosa che interessava a te era che so questa notizia su dare devil che io magari non ripropongo e quindi te la saresti persa qui arrivano in diretta cioè subito appena sono pubblicate dalle fonti che ho collegato vengono pubblicate anche qui e sono in un flusso che scorre ogni volta che tu ricarichi la pagina vedi quelle nuove dicevo finita la colonna del extra news ci sono le ultime notizie dal mondo anche queste sono in diretta e a scorrimento nel senso che ogni volta sono diverse ma queste riguardano veramente il mondo non il mondo del fumetto ma il mondo quello in cui viviamo le cose quelle che contano la vita è la vita di tutti i giorni belle brutta com'è c'è di tutto anche questo può essere interessante perché il senso è che non è che perché sei su una pagina che parla di fumetto devi essere fuori dal mondo è meglio tenere d'occhio che cosa succede e poi scorrendo ancora giù ci sono un po di libri che a me sono piaciuti e che quindi segnalo se ci fai clic sopra la possibilità di andare alla loro scheda e poi si arriva alla fondo alla sezione di base dove ci sono quelle cose che non sono stato spiegarti perché voglio che tutte le veda per conto tuo così sai se c'è qualche cosa che veramente può esserti utile o interessante queste cose questa la base è fissa diciamo direi che è tutto per oggi ma sì ma possiamo andare a vedere che cosa ha messo su Gatto Zeneise vediamo un po' cinema animato per adulti con otto mani un laboratorio sui linguaggi dell'animazione ma certo che con otto mani insomma si fa sembra interessante capperi questo qui andrebbe letto eh 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 vediamo un pochino cos'altro c'è vediamo un po' ah 30 anni di animazione Pixar allo speciale di Wonderland guarda qui è Domenico che vedo ha segnalato la puntata di Rai Play in cui si vede la mostra bellissima dedicata alla Pixar anche questo da leggere oh sì 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 bisogna leggerlo vediamo un po' cos'altro c'è mmm che belle immagini ma questa mi ricorda qualche cosa oh deve essere veramente un bel libro eh eh sì ovviamente lo è andiamo a vedere di che si tratta oh però eh è il catalogo di Alessandro Distribuzioni da cui io estrago sempre qualche copertina non tutte quelle che a me personalmente piacciono di più o mi interessano per un qualche motivo ma sotto c'è il collegamento dinamico al catalogo dove invece andare a vedere tutto quello che c'è fra queste come abbiamo visto ma sotto ci sono sempre dei consigli di lettura collegati all'argomento dell'articolo quando mi è possibile fare anche questa parte di lavoro dipende dal tempo non dal tempo atmosferico dal tempo a mia disposizione per fare questi giochini qui e quello che abbiamo visto era ehm questo libro qui eccolo qua dei bravissimi radice turconi tosca e questo è un estratto della copertina dell'edizione speciale o come si dice oggi la copertina come si dice oggi scusate mi mangio anche le parole come si dice oggi la copertina variant variant ma variante è una copertina alternativa va bene questo è quanto possiamo tornare alla home page già che ci siamo ti ricordo che il menu di AF News è piuttosto ricco non c'è soltanto la paginetta iniziale del blog ci sono tutti gli indici con gli archivi mensili gli archivi per categorie l'archivio delle pagine l'archivio dei tag e delle rubriche gli speciali e vai a vedere perché c'è un sacco di roba la sezione redazione che serve per contattare la redazione cioè me oppure qualcuno degli amabili amici che collaborano con me di tanto in tanto e vedere chi ha scritto su AF News nel tempo una serie di cose c'è per fine una sezione in cui vedere le prossime notizie ma guarda che roba guarda andiamo un po' vediamo un po' quelle che non sono ancora state pubblicate ma che sono già aggiornate Welcome to AF News qui AF News notizie quotidiane dal mondo del fumetto ed intorni ah quindi scopriamo che domani forse si parla di Blake e Mortimer è zero calcare interessante il giorno dopo ci ha preparato una sorpresa il Moise con le sue vignette vedo che ci ha anche preparato un Rebus e poi il primo di novembre si parlerà di Dio Gipi Topolino Goprat Maschera Aquaman Tex Denis Denis Demeneis Gaston Lagaffe Tentain il 2 novembre si parla di Alley Hoop che peraltro se avessi fatto attenzione oggi nella barra laterale avresti già trovato la notizia a cui si fa rivedimento ma qui ci saranno delle cose in più delle immagini in più e poi c'è un'anteprima che non posso nemmeno dire perché c'è il vincolo fino al 5 novembre ops ma l'hai intravista e poi c'è la sezione newsletter che è quella che serve per poter ricevere le notizie in altri modi quelle pubblicate nella sezione centrale cioè quelle pubblicate da AF News non quelle rilanciate dalle reti che può essere anche comodo un ripieno con il giornaliero magari a qualcuno fa piacere riceverlo c'è la sezione app per magari mettersi un app sul telefonino o sul tablet ed essere connessi ad AF News la sezione help beh ci sono parecchie cose vedi un po' questa te la scorie guarda se c'è qualcosa che ti interessa la sezione traduzione è per gli stranieri che però di solito ricevono un avviso in automatico che dice che la pagina può essere completamente tradotta e poi c'è il login che di solito non serve a nessuno serve più che altro a me e ai miei amici che pubblicano le loro notizie su AF News direi che il grosso l'abbiamo visto il resto come sappiamo è in fondo a fondo pagina ci sono le cose extra ah naturalmente se avete dei se hai scusami parlavo con te non con voi generico parlavo proprio con te se per caso provi un moto di riconoscenza nei confronti di me che sono qui a tenere in piedi questa cosa gratis naturalmente per te e tutti gli altri puoi mostrare la tua riconoscenza vai a fare click qui e poi se vuoi è tutto possiamo tornare alla pagina principale ok ah le foto che le foto grandi che si vedono qui di solito anzi in questo caso quelle della testata sono tutte foto mie in genere dalla mia collezione fotografica che si chiama fumetto su fumetto bene è tutto anche perché il gatto ha fatto miau i cani non hanno ancora fatto baum ma lo faranno presto e quindi ti saluto ci vediamo in un'altra occasione intanto mi raccomando divertiti e condividi condividi ciao